Nella quarta esercitazione l'obiettivo sarà controllo e trasmissione. Lavoreremo con le lettere A e B all'interno dello stesso esercizio. Il primo esercizio sarà controllo interno sinistro, trasmissione piede destro, controllo interno destro, trasmissione piede destro. Ve lo faccio vedere. Sinistro, sinistro, destro, destro, sinistro, sinistro, destro, destro. Seconda variante saranno le lettere C e D unite. Quindi controllerò la palla con l'interno destro e la trasmissione la farò con l'interno sinistro. Quindi destro, sinistro, sinistro, destro, lo faccio rivedere, destro, sinistro, sinistro, destro. Quello che è importante è che dopo ogni controllo vi spostiate velocemente il vostro colpo sia dietro completamente alla palla. Il piede d'appoggio indirizzerà la palla e con l'altro piede calciate verso il vostro obiettivo.